Il Madrid, Real, io penso che sia la squadra in assoluto la più blasonata nel mondo. Quando uno vuole fare dei paragoni dice siete forti come Real Madrid, quindi ha una storia talmente importante, talmente grande, che viene sempre presa come esempio. Real Madrid ogni anno ha una struttura per poter provare a vincere tutto, perché c'è la possibilità, ci sono situazioni economiche, c'è già una base importante di giocatori veramente molto molto forti. Quando io ho detto c'è la possibilità di comprare un giocatore a 100 milioni ma anche di venderne due, uno a 50 e l'altro a 40 per far capire le potenzialità che si hanno in rosa. Io non penso che tante squadre abbiano dei giocatori da vendere a 50 milioni, come Osillo o 37 milioni come Higuain. E questo per far capire la caratura della squadra. Penso che Real Madrid ogni anno deve puntare a vincere e chi arriva sia che sia il calciatore o sia il tecnico sa che deve puntare al massimo. Quindi non vedo grandi differenze tra l'anno scorso e quest'anno, fortissimi l'anno scorso e fortissimi quest'anno.